Le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale sicuramente stanno già sostanziando l'attributo di predittiva alla medicina dei 4P, quindi la capacità di generare dei modelli predittivi sempre più precisi e sempre quindi più aderenti al reale profilo del singolo individuo e anche alla reale evoluzione del singolo individuo all'interno del suo percorso di cura e del suo percorso anche di personalizzazione della cura garantirà sicuramente una maggiore efficacia delle terapie disegnate su questa tipologia di approccio al dato e questo porterà un beneficio doppio sia al paziente in quanto tale, sia al sistema che deve in qualche modo sopportare la spesa relativa al trattamento del singolo individuo, per cui sicuramente ci sarà un'ottimizzazione sia sul versante della persona che sul versante del sistema. È fondamentale che pubblico e privato collaborino insieme e collaborino insieme fin dai primi momenti del percorso di digitalizzazione, perché l'arrivo in disponibilità sul mercato di soluzioni digitali ad alta componente innovativa sicuramente crea uno stress test sul sistema regolatorio ad esempio, che deve rapidamente comprendere l'innovazione per poi autorizzarne la prescrivibilità e quindi anche la rimborsabilità, per cui è un cerchio che necessariamente deve chiudersi, altrimenti l'innovazione resta un po' campata per aria e non si innescano quei meccanismi assolutamente necessari per far sì che l'uptake non resti arcipelagico ma diventi un uptake di sistema. Fondamentale, il network è fondamentale perché l'estrazione o l'emergenza di conoscenza dal big data è più valida se il dato è veramente dimensionalmente e qualitativamente di grande qualità, di grande spessore. Questo perché l'eterogeneità aggiunta alla quantità del dato garantisce che poi i modelli siano effettivamente rappresentativi dell'evoluzione del percorso all'interno di una patologia del singolo individuo. Per cui il network è fondamentale per acquisire dato eterogeneo, dato di qualità e dato di grande quantità.